Ciao carissimi, oggi questo è il film che oggi vi voglio presentare, Hit di Michael Mann con Robert De Niro al vaccino un film fantastico che proprio mi è piaciuto tantissimo, che io lo amo da tanti anni questo regista ha fatto dei bellissimi film, non mi chiede di titolo in italiano perché di tutti i visti in tedesco comunque, niente, questo film è molto bello perché non è la tipica storia, diciamo, il thrill film di azione tipico dove si sparano e basta, ma... sta ballando la camera? Sì, si vedono anche le storie dietro il gangster, la storia dietro il poliziotto, cioè c'è la storia anche della famiglia vedere il privato che influenza il modo in cui agiscono poi questi personaggi quindi non solo chi è il più forte e chi è il meno forte, ma ognuno ha un sacco di sfumature un sacco di sfumature di carattere, quindi fino alla fine è veramente una bomba di sfumature di immagini anche bellissime, immagini che ricordano appunto l'anima, quindi si trova, si vede il... per dire, Robert De Niro in questo... in questo... in questa stanza, diciamo, dove abita con un paesaggio dietro la finestra, si vede il mare, delle scene anche silenziose ma molto molto profonde, no? quindi... posso solo consigliarvelo, Hit di Michael Mann è veramente un film con molta psicologia e anche, nonostante tutto questo, anche molto molto azione, molto... girato benissimo, quindi... insomma... colori bellissimi, un sacco di... di sentimenti, ve lo consiglio e alla prossima, ciao!